Ciao a tutti, sono Iella Moveronica, ho conseguito il Master in Corporate Finance & Banking nella sua prima edizione, ho conseguito la proclamazione a novembre 2023. A termine di questo percorso ho avuto le basi necessarie per poter prendere la certificazione come consulente finanziario, che attualmente è quello che svolgo nel mio lavoro. Questo percorso è un percorso completo a 360 gradi, in qualità di Master vi dà la possibilità di affiancare una parte teorica fondamentale ad una parte pratica per mettervi realmente alla prova. Sfruttate questi momenti perché saranno necessari per avere un confronto diretto sia con i vostri professori e sia con tutto il personale super qualificato che verrà a fare presenza in queste lezioni. Saranno delle figure molto importanti come CEO di importanti società, manager di altrettanti importanti società o figure di spicco. Quindi non perdete l'occasione per avere un contatto con queste realtà perché non ce ne sarà sempre la possibilità. Consiglio a tutti voi questo percorso se siete interessati ad un ambito finance sia nella sua sezione corporate che nella sua sezione banking perché vi dà davvero tutti gli strumenti per entrare a far parte del mondo del lavoro. Faccio a tutti voi un grandissimo in bocca al lupo e spero che questo sia come lo è stato per me un trampolino di lancio per entrare nel mondo del lavoro con il lavoro dei vostri sogni.